Ragazzi, benvenuti al Copido by Samu, il format dove due persone sconosciute si incontrano per la prima volta e provano a giocare insieme in una ranked. Se esce una bella partita esce su YouTube, se mi piacete come coppia potreste entrare nel Team Master, ovvero il team dove potreste essere pagati per giocare a Fortnite e fare i tornei dove si possono vincere dei soldi. E niente ragazzi, se volete presentarvi un po' l'uno con l'altro, Tony inizia pure tu. Ah, io sono IGL, ho 200 PR global. Ti piace più Fraggger o IGL? IGL, perfetto. Tu Andre? Io invece sono Fraggger, ho per ora 0 PR perché i tornei non ne faccio. Ok. Ho un'altra campagna iniziano a fare dei tornei così almeno inizio un po' l'esperienza. Gioco dalla season 5 capitolo 2. E se te vai al boss... No, aspetta, aspetta. Quante kill avete, raga? Due. Però lui è morto. Due, io non ne vedo, ok. Il Tony è anche forte, ragazzi. Andre non l'ho mai visto giocare, ma so che il Tony è bello forte perché rompeva le scatole in creativa. Quindi vediamo come se la cava. Dark, te lo ricordi tu? Alex, duro, grazie per il follo. Vi ricordo che non hanno mai giocato insieme. Mai giocato una volta insieme, i due ragazzi, eh? Quindi siamo per fare il video, che stanno bene, ma mai aver giocato insieme. Mai aver giocato insieme, sì. È proprio il bello del format. Trovare due persone casuali e vedere... Se riescono a collaborare o meno. Da quanto tempo giochi, Tony? Da MK, da 2 al netto, tipo. In totale della season 10. Buono. Occhio, killa. Cosa fai? Occhio ai materiali, che non è infinito, eh. Alla nitro, è lui. Lui, 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 lui. Che cosa devo leggere? Dove? Dark, in chat? Se avete bisogno, ragazzi, di qualcosa, rimandate il messaggio. Copiate e incollatelo, che quando guardo la partita non... Non leggo troppo la chat, eh. No, non posso, c'erano due tics. Ma la schiena è l'obbosa. Dai, è che tornano tutte e due in vita. Andiamo a vedere cosa combino. Mero, ci sei tu? Come stai? No, per tutti, ragazzi. Questa è una delle uniche giornate dove i sub non hanno i vantaggi. Se no, c'è tutta la lista dei vantaggi dei sub lì sotto, ragazzi. Leggetevela. E guardate quanti sono i vantaggi. Si partecipa, mandando la richiesta di unirsi quando finiscono loro. E niente, se io accetto le richieste in base a dei numeri casuali, potresti uscire tu con un altro e provare a fare la partita con una persona. Dai, raga, diamo spettacolo alla chat, eh. Ci sono più di 50 persone che vi guardano fra tutte le piattaforme, eh. Facciamo vedere cosa sapete fare. Dimmi come ti chiami, caro. Vix, grazie per il follow. Leggo subito, d'archetto. Mi può scendere. Bravo. Fatto volo. Oh, tu, ok. Tieni i palpi. Tieni questo. Eh, ma tu lo sai già cosa sei, caro. Eh, lo sta pushando. Ai, su, vai. Hai sette build, eh. Hai quattro build. Vai, dai, che è vostro, dai che è vostro, è qui il like, eh. Dammi i mozzi. Non ho, non ho bisogno di poter capire. Ho solo un medico. Dov'è il finish? Dov'è l'altro? Eh, tipo qua, qua, qua. Sopra sta strada. Un pochiero sopra, eh. Bravo. Attento dietro. È tuo, eh. Sei più forte di lui. Hai anche un kit qua. Trenta di vita. Devi tornare a prenderci il kit, se riesci. Hai un kit sulla scala. Bravo. È nostro, è nostro. Muore. Almeno te ci fai un kit. Se non ti... Almeno te ci fanno delle vite, ma... Vai che è tuo. Vai che è tuo. Bravo. A posto, vai. Non capisco perché mi trovo i champ per noi di diamanti. Eh, assurdo. Mi fa anche un cropper, eh? No. Però, bella forte questo doni. Eh, bella, lascio stare. Zammu. Dimmi. Ma quando l'hai visto Giovanni, tu, Tony? Eh, l'ho visto... In delle ranked. No, no, no. Scusami, in delle creative. No, io non l'ho mai visto Giovanni, ma è carino. No, no, non è forte. Te l'ho detto, te l'ho detto. Era... Rompeva le scatole spesso in creativa. Eh, no, vai... E ti lo butto qua dietro, ti lo butto qua. Qua dietro? Sì, sì. Tanto tempo era uno. Vabbè, tutta la mano. C'è posto, ragazzi. Sono due persone casuali. Mi mandate la richiesta dopo per unirvi. E due persone casuali entrano in partita senza aver mai giocato insieme. Ancora qua. Siete sicuri, raga? Sì, è nuore, c'è sempre l'auto. Ok, dai. Intanto riusciamo a mandare in safe. Ci abbiamo l'auto e ci abbiamo anche, magari, il... Qua per la dimentica. Oggi non sono i provini per il team master. C'è il QP, dove siamo, ragazzi? Sì, sì. 30 di vita, sì, sì. Sei dentro, a posto. Eh, più o meno, eh. Lì ci sono i barili, eh, se ti serve... Ok. A posto. Lui è dentro, tu? Eh, io... Però non sto arrivando, certo. Ho un kit e altri pure vita. No, chi è giallo, caro? Matt, non mi fare parlare, per favore. Non mi fare parlare, che non ho voglia proprio di discutere. Guarda. È uno streamer? Ciao, Matt. Come stai, giallo? Tutto bene, caro? Abbiamo dei tizzi qua. Vieni. Vai, avete la safe lì, eh, di fronte, dai. Vai, che è vostro? Ho fatto uno. Ottimo. Build in ferro, build in ferro, se riesci. Occhio dietro, occhio dietro, caro. Bravo. Grande. Grande, Tony. Quello che devi... No, no, te lo ho messo. Quanto bello la sei. Ora ammetto... Guarda bello. Otto persone contro, eh, ragazzi, dai. Andiamo in ferro se ce l'abbiamo, che ci... Che è meglio, eh? Hai quelle sceme. Eh, ci fanno un'unica. Giallo, dopo ti rispondo, aspetta un attimo, ok, caro? Solo che sono concentrato con i ragazzi, dopo ti rispondo. Fammi finire il game. Abbiamo due tizi davanti. Ah, no, fai attenzione, sedi su, sedi su. Questi qua... Vieni, vieni, vattene, vieni qua. Ti voglio mettere. Andiamo a mostrare questo. Potete prendere il primo haig, eh? Vai, prendete il primo haig, ragazzi. Sei vostro. Vai, eh. Puoi salire ancora di uno, eh? Puoi salire ancora di uno, volendo. Non siamo tanto sopra di loro, perfetto. Alla scuola, no. Ottimo. Quanto mazza hai, Andre? Visti dietro che vi stanno salendo? 44 euro. Era solo usco. No, fanno cadere tutto. Temi quanti in mano, temi quanti in mano. Potete prendere il primo haig, eh? Eh, guardami. Vai, posizionati su di loro. Perfetto. Non siete insieme, eh? Non prendi la macchina. È l'unica macchina. Sta faiutando con un altro e non vuole far cadere, eh? Sta faiutando con un altro e non vuole... Occhio, Tony. Non è che sono avuta la macchina. Ragazzi, pingatela safe e andate in safe, per favore, dopo, eh. Bene, grazie per il follow. Ciao, Luigi. Lui in safe, è lui in safe. Seguilo. Prendiamoci top position ed è nostra. Due box vicini e l'abbiamo fatto. Occhio full like, occhio full like che guardano. Occhio full like. Bravo. Hai un po' di match. Eh, eh? Ciao, belli. Ciao, ragazzi. Mi metto qui. Vi ricordo che non hanno mai giocato insieme, eh. Ma non siete in safe, ragazzi. Ma devo aspettare che si apre. Sì, sì, sì. Vieni, vieni, seguimi. Vai, perfetto. Bravo. Bravo. Non ho mangiato, eh. Occhio chitarra in full like, ma non scende da voi, eh. Eh, sono tutti solo, tutti solo, tutti solo. Beh. Arino, tu stai qua. Sì. Eh, ne ho uno sotto. Eh, non fai gli armi. Mi spara da solo. Eh, lasciatela se ti spara da solo. Ok, a posto. Allora, vecchio, ne ho uno sotto di te. E uno qua e uno qua. Ricorda? Eh, no, c'è un botto di... Eh, pingate l'ultima safe. Pingate la safe ancora, ragazzi. Eh, stai pure a me la safe. Pingagliela all'inizio della safe, così sono a posto. Chill, eh, chill, ragazzi. Quanti mairie kit abbiamo? Eh, due. Allora, Fett, cosa? Tieni lì tutti tu, tieni. Vai, ti lascio un po' di ampolla. Non mi droppa, vai. Dai che ci hanno preso un like, vieni un po'. Ti rispondo dopo, giallo. Dammi solo un attimo, che siamo in un bel in-game. Vai, regà. Vai, dove c'è il tizio, vieni. Prendetevi il full like, il vostro. Ah. Quanto mazza hai, Andre? Eh, 290. Siete conto a tre persone? Quello ho fragato, via. Voi, vostro, 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 vai. Quello è vostro, eh. Deve entrare assolutamente in safe, eh. Vai, montagna vostra, God. Altro Mary kit lì dietro da lui, eh. Andre, vai dove è lui? Andre, Andre, vai dove è lui? No, no, sono tutti solo. Prenditi il medico, qui lì dietro. Si fa, che non vado. Ottimo. Bella, ragazzi.